No, 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 non posso vendere 22 carote per un cubetto di paglia Oh, ciao ragazzi, non mi abbiamo visto Allora, questo villager, cioè, mi vuole vendere 22 carote per un cubo di paglia? Cioè, è veramente una roba incredibile Ah, scusate, non ho fatto la mia intro Eeeh, sono tutti ragazzi, io mi chiamo Luigi e bentornati sul mio canale YouTube Ehm, sono proprio, sono proprio accanto della tomba del fabbro villager Che l'ho ammazzato quando non era ancora diventato YouTuber E quindi lo volevo farlo vedere Ah, e devo essere fatto perché sto facendo questa intro così nel villaggio E perché ho una sorpresa per voi Ricordate l'ultimo video che ho fatto in cui vi promettevo che facevo venire... Cioè, scusate, scoppa mia Avete presente l'ultimo video in cui vi avevo promesso che alla fine facevo la casa Ehm, e facevo anche delle mura per il villaggio Salve Ehm, sì, ecco Ehm, ve l'ho fatto Ho riprodotto... Che ci fa quella mura sopra? Vabbè, stranezze Allora, come stavo dicendo Ehm... Ecco, faccio qui Ah, sì, ecco Ehm, vi avevo promesso che facevo miglioramenti per la mia casa e per il villaggio Intanto, guardate qui Ho fatto un pochino di mura Ehm, così che i villager non potevano andare a casa mia E visto che ci andavano Non so perché E comunque, ecco la mia casa finita Qui, come potete vedere Ho messo, ehm, delle staccionate di quercia Per simbolo di entrata Ovviamente anche per l'uscita Scusate Qui dei cartelli Così a caso Non ci ho pensato Qui delle landi Mh, dei cetrioli di mare Per fare da Da L'eleganza Qui ho finito Ho rimesso Ho messo le Le cose di betulla E non quelle Di quercia Perché non ci stavano Col tetto Così E adesso entriamo dentro Allora Come potete vedere Ho fatto una mini tavola Con Delle due Due sedie Qui ci sono gli oggetti preziosi Ah Scusate Se sono andato in creativa Per mettere Ehm Per avere delle uova di villager Altrimenti Se no Non potevano più Cioè Altrimenti non potevo più Scambiare Con loro Quindi mi dispiace Ma non vi preoccupate Non andrò in creativa Per Per ovviamente Prendere dei diamanti Capito Ok Come potete vedere Poi C'è anche un'altra novità Ho fatto un camminetto Che ho preso Spunto dal villaggio No 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 Non questo Non quel villaggio Ma ben due Infatti Come avrete letto dal titolo Che ci sono due cose Che dovremo fare oggi Ho scoperto Adesso vi faccio vedere Per Per la prossima volta Per la nostra costruzione Di oggi Qui c'è il caminetto Che continua Scusate Qui c'è il caminetto Che continua Io ho messo proprio questo Perché così posso Come dura la vita Perché così Perché possa Così Buttarmi giù E spracelarmi Le osso per bene Ma porca vacca Allora Poi Ho completato Anche il dietro Mettendo I mezzi blocchi Di quercia Vabbè Non mi sto a dire Tutti i nomi Qui Potevate già vederlo La blaleo Tra la la Ho migliorato Un po' Il raccolto Molto grande Realmente grande Qui ho sostituito La terra Con Con il legno E qui Ah è vero Vi avevo anche promesso Che completavo il ponte Scusate Quello lì Me lo sono dimenticato Ma almeno Ho completato a casa E qui C'è Vi ricordate Il pilastro Di terra Che avevo fatto Fatto Bene L'ho sostituito Con questo In modo Che fosse Una specie di canna Quando ci metterò La corda Cioè Ci metterò Un animale Prenderò Le uova Di un Di un porcellino Poi farò Una mini Stanza Nel lago Dove lui Non affogherà E poi E così Farò in modo Che Poi ci metterò Una staccionata È ovvio E poi Vedere Forse è da lì E lì È da lì Che ho preso Il Il punto Del fare Il cammino Purtroppo Che ho rubato Una cosa Ma tanto Non gli serviva Allora Una casa Così Una casa così A caso Allora Non vi faccio vedere Non vi sto a far vedere Tutto all'interno Solo un letto Bianco E una scala Che forse Era come Una cosa Poi c'è una cesta Perché avevo preso Le loro cose Un letto giallo Allora Poi Aglio E da lì Ho trovato Le barbabietole Rosse Qui ci sono Altre case E si dà Si dà Il caso Che dovrò Dormire qua Quindi Buonanotte Vado a vivere In questa bella casa Bella proprio Per niente E' più bella La mia Muoviti Ma Signor villager Qui c'ero prima io Ah Finalmente Allora Scusate Allora Come vi stavo dicendo Qui ha scoperto Ha scoperto Le barbabietole Mi prendo Anche questo Che tristezza Cioè Ah Finalmente Oh vabbè Questo Siamo a vuoto Scusate Non lo faccio più Non lo faccio più Allora Qui ci sono Altre case Ci sono Le bancarelle C'è anche la campanella Un po' di fieno Buttato qua e là Ecco Questa E già avevo messo io La crafting table Questa è la casa Da cui ho preso Spunto Per il Caminetto Qui c'era Una fornaccia Per cuocere I I I I minerali Più velocemente E alla fine Me la sono presa Qui come potete Vedere c'è anche C'è anche il C'è anche il Recinto dei cavalli Molto belli Forse più del mio Forse più dei miei Scusate E così Così E adesso Andiamo nell'ultimo Villaggio Che vi devo Fa vedere L'ultimo E poi Potremmo Fare Potremmo Fare La stanza Degli iscritti Come avrete letto Dal titolo Ovviamente Non starò A Come si dice Aiutatemi Ma non potete Sapere Cosa dico Si Sono andando Nella direzione Giusta Ah si Non potrò Arredarlo Cioè Non vi farò Vedere Come potrò Arredarlo A massimo Poi Nel prossimo episodio Vi faccio vedere Come l'ho Arredato Zitto E farò Solo Il pavimento Perché Come vi ho già detto Non ho tempo Ma devo smetterla Cioè Dovrei smetterla Di riprendere Col cellulare Di mia madre Ma purtroppo Non posso Sapete il motivo? Perché Praticamente La grafica Del tablet Del mio tablet È orrenda Cioè Per fare video Eh La grafica Del mio tablet Per fare i video I video È orrenda Comunque Il villaggio Dovrebbe Trovarsi Dopo queste Colline Di sabbia Ecco Come vi stavo Dicendo Trovato Cosa è successo? Vabbè Allora Allora Vi lo faccio vedere Velocemente Perché come Vi ho già detto Non ho tempo Allora Qui ci sono Anche molti Conigli Che ammazzano I cosi Qui Ho trovato L'armatura Di diamante L'arbatura Di diamante Cioè Quella Dei cavallo E alla fine Sì Così Credo Che il villaggio Più grande Sia quello Un coniglio È morto Poverino Comunque Come stavo dicendo Che Ah ci sono Anche i gatti Proprio bello Questo villaggio Mi piace Allora Mi piace più Degli altri Però Il problema È che Non è il più grande Se fosse stato Il più grande Sarebbe stato Il primo Che mi Fosse piaciuto Di più Allora Torniamo a casa Adesso A fare Il pavimento E Devo Devo sapere Nei commenti Se vi piacciono I due Villaggi Che ho scoperto Ma comunque Ci ho messo Pochissimo Se scaricate La mappa Villaggio costiero In qualsiasi Punto di minecraft Per esempio Come si dice Minecraft PS4 Nintendo switch Insomma Per le varie console C'è questo punto Ovviamente Non Con Il mio Ovviamente Non Con Il mio Ovviamente Non Con Il mio Villaggio Le mie Costruzioni Ma Tutto vostro E se voi Scaricate Questa mappa Praticamente Vi farà trovare Questi due Villaggi Ma non so Se la roba Che troviamo Alla fine È sempre Quella Non lo so Però Alla fine Però Alla fine È veramente Cioè Se ne può Approfittare Di questo mondo Veramente Fantastico Non me lo sarei Mai aspettato Di trovare Due villaggi Uguali No Non uguali E L'unica cosa Che mi manca Da trovare Adesso Il Tempio Allora Scendiamo qua Che io Avevo Già Fatto Un pochino Forse La legna Non sarà A sufficienza E scusate Anche se Ogni volta Non completo Mai I miei Video Cioè In senso Che non Che non Completo Mai Le opere Che devo Fare Ma non so Comunque Il prossimo Video Vi spoilero E Da questo momento Non ve lo spoilerò Più Non ve lo Sì Non ve lo spoilerò Più Il video Ho trovato Anche da ferro Allora Come stavo Dicendo Sì Ok Allora Come stavo Dicendo Scusate Sempre Mia mamma Cioè Scusa Mamma Se lo devo Dire Ma è la Verità Sei Insopportabile Allora Come stavo Dicendo Per l'ultima Volta Mio Dio I prossimi La prossima Volta Faremo Un video Sull'esplorazione Delle Caverne Perché Sì Cioè Al massimo Nel secondo Episodio Dovevo Fare L'esplorazione Nelle Caverne Di Minecraft Ma Non ce Ops Ma Non ce L'ho Fatta E Alla Fine È Venuto Che Dovevo Farlo Almeno Ottavo Il Quinto Il Sesto Episodio Perché Perché Sennò Non C'era Avventura Ok Mio Dio Mio Dio Ma Meno Dimmelo Che Devo Spostarlo Ok Ragazzi Il video Finisce Qui Spero Che I miei Progressi Vi Siano Piaciuti Lasciate Like Attivate La Campanellina Per Le Notifiche E Lasciate Un Bel Commento Un Bel Commento Caldo Ragazzi Ci vediamo Nel Prossimo Episodio Ciao